Il suo dichiararsi a favore del mantenimento del punto nascite di Arco e dell'intera mozione dovrebbe tramutarsi in prese di posizione un po' più decise e formali, mentre ci pare che ancora una volta su questo argomento il sindaco cerchi di non esporsi in maniera sostanziale, attiva e fattiva. È quanto dichiarato nei giorni scorsi in una nota dal gruppo consigliare Partecipiamo per Nago Torpole, in riferimento alla mozione approvata all'unanimità dal civico consesso del 27 dicembre scorso, che ha impegnato il sindaco di Nago Torpole, Gianni Morandi, e la Giunta a chiedere alla provincia di inviare al Comitato Nazionale Punto Nascite la richiesta di revisione della domanda di deroga per la prosecuzione dell'attività del centro arcense. Risulta che il sindaco e l'amministrazione abbiano semplicemente trasmesso copie della mozione all'assessore Zeni, senza nessun altro atto formale, scrivono Gianni Perugini ed Eraldo Tonelli, mentre sono a tutti note le difficoltà e le carenze emerse nel comparto sanitario dell'Alto Garda, che sta attraversando un momento di profonda crisi, con la messa a rischio di importanti prestazioni mediche anche nel comparto dell'assistenza privata, oltre che di molti posti di lavoro. Per questo i consiglieri di Partecipiamo interrogano il sindaco per sapere quali azioni intenda intraprendere per scongiurare questi scenari.